Ciao a tutti amici, sono il Custo e oggi completeremo la missione First Recon di Handshake su Grey Zone Warfare. La missione ci richiede di trovare tre luoghi sulla mappa. Ci dà anche le coordinate, quindi non possiamo sbagliarci. Il primo luogo si trova qua, a 171-118. Eccolo qua, si tratta di un piccolo negozietto chiamato Convenience Store. Sbloccato, ora possiamo passare agli altri. Un altro luogo è al confine nord della nostra città, possiamo vederlo qua sulla mappa, e si tratta della Gas Station. Adesso andiamo a sbloccarla. Ecco qua, completata. E come ultimo luogo, ma non per importanza, abbiamo qua sotto il Construction Site. Ok, missione completata. Ora possiamo finalmente tornare a casa. Se vi è piaciuto il video lasciate un commento e un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima e bella!